Posso? Puoi? No, perché dalla piega della tuta sembrava che... Cioè, c'è le cosce di un puledro. È vero, non è finto questo. L'ho fatto solo per la scienza, non sono... Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. Questo è per pochi. Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Oggi sono in compagnia di Matteo Marzolla, alias Lichten. È uno streetlifter che ha vinto la gara del 2021 classe intermedia. Esattamente. Che numero hai fatto? Ho fatto 70 di chin-up, 105 di dip e 210 di squat. A che categoria? Quella più pesante, nella più 87. Quanto pesa? 94,5. Alto? 180. Cioè, se sei uno streetlifter HP più 14. Esattamente. Per me ne vedo uno grosso. Comunque, oggi vedremo i tre big, panca, squat e stacco. Io, se posso, darò qualche correzione. Lo seguirò a ruota con i suoi chili, farmi allenare anch'io. E vediamo un po' come si muove. La panca, per esempio, mi hai detto che non la fai, no? La faccio poco come complementare, prevalentemente presa un pochino più stretta, perché mi serve come la spinta del dip per rafforzare tutto il compartimento di spinta. Già mi aspetto che farai la classica panca da calistenico? No, quella non me la tiro addosso, per fortuna. Ci provo a fare le cose fatte bene. Poi, comunque, vedremo, vedremo. Ci metterai te l'occhio. In caso, ora ci alleneremo davanti a quel rack, silver bullet, con l'attrezzatura da gara, tutto a power gear. Quindi faremo panca, squat e stacco, tutto a regolamentare. Quindi non ci sono trucchi, non ci sono inganni. Non ci sono pesi tecno-gym rovinati. Allora, adesso ci mettiamo nei ginocchiere, entrambi vestiamo SBD. La tua è una M e una S? MN. Per lui ha il polpaccio più grande, giustamente, gli serve la taglia più grande. Anche il piede. Mentre per la cintura, gli presterò la mia SBD, in modo da dargli quel plus in più nello squat, perché oggi l'idea è di esaltare lo streetlifter, che è uno sport che io rispetto, dato che hanno deciso di fare le gambe. Se devo scegliere di fare uno sport simile al calistenic, farei lo streetlifting, non il calistenic. Quindi mi stanno simpatici i streetlifter, un po' meno i talistenici. Ha niente di personale, è semplicemente la mia opinione. Allora, faremo entrambi lo squat low bar. L'alzata è più prestazionale, perché la leva della schiena è molto più vantaggiosa. Iniziamo con 70 kg, faremo dei grandi salti, poche ripetizioni. Il gianchieri le tiri dopo? Sì, sì, tiro dopo. Adesso mi scaldo un pochino così. Io sono un fattore dell'avere sempre la cintura, ginocchiere, anche se c'è il bilancio di ruoto. Al massimo la si stringe meno, tanto non è che vi dia allenate il core, sono tutte cazzate. Considerate che mi sono allenato ieri, ho fatto una tripla con 265 di stacco, quindi non sono fresco. Oggi era il mio giorno di riposo, però c'era questa occasione di fare il video con lui, per cui l'ho colta al volo. Ti controla, io mi sono allenato stamattina. Ah, doppia seduta giornaliera, come il bulgaro sa fare. Allora, 150 kg, faremo salti di 20 d'ora in poi, 70-90 e poi vediamo 200-210. Accelera quando vai al solato, esplosivo. Boom! Bene, non senza frustare, però. Perché sto capendo come funziona l'attrezzatura, poi da poco. Allora, stendi la gamba. Ok, ho già. Per quello che devo vedere, Mattia non ha difetti, almeno per questa percentuale di carico, quindi ottimo squat. Si vede che lo allena comunque da streetlifter. singola. Ok, Matteo si sta mettendo ai ginocchiere. Hai fatto una singola? Si. Che avevo rigorosamente messo sotto sopra. Non c'è sistemato tecnicamente le alzate? Ho guardato dei video su YouTube. Ok, 190, singola. Cambia tese, guarda avanti. Ok. Se vuoi ti presto la mia cinta. D'accordo. Ce la scambiamo. Facciamo 205. Ok. Presto la cinta, Matteo. Opa, grazie. Cominciamo a fare un po' pesi da uomo. Sopra i 200 kg. pesi da umetto. Abbi tese. Quattro. Ecco. C'è un po' la tendenza a smollare buca. perché ho sempre scuotato molto ai barri. Esatto. Un po' tipo il weightlifter, no? Eh sì, esatto. Manda i ginocchi avanti. Se tu sapevi che venivi da me oggi, perché ti sei allenato? Perché mi alleno nove volte a settimana. Cosa? Sì. Nove volte a settimana. Mi fai doppia seduta giornaliera? Sì, poi ti spiego. Mi fai sentire un'antea allenato così. No. Eh, mi sento proprio santucci. Riesci ad allungarti meglio il suo morale? Se no, non fa niente. Sì, sì. Squat. Su, vai, vai. Fermo, gravo. Ottimo. Ma tu. Ciao. Molto più veloce della mia. Matteo, spiegami un po', quanti squat fai a settimana? Due più tutte le altre sedute di complementari. Ok, questi due squat in cosa consistono? Primo giorno ho un top set. Nel senso, squat, i bar, fermo in buca. Tutti low bar, logicamente. Low bar. Varianti? Varianti è uno zerker. Ah, ok. Quello? Sì, esatto. Perché non avendo bilancieri olimpionici, fare front squat mi girerebbe fuori dalle mani. Non fai mai, che so, squat isocinetico, fermo in buca? Li ho fatti nella preparazione che mi ha portato da fare i 220, i 240 in circa sette settimane. E perché non fare tre squat o quattro, visto che non hai le altre tassate che rubano le palle? Perché adesso devo fare due squat così, addirittura più leggeri senza cintura per aumentare l'RP e percepito, per far salire la tirata. Perché logicamente la fatica neurale accumulata da uno squat è alta e la tirata, quindi il chin-up e il muscle-up ne soffrono molto. E ti riprendi con i video per correggerti? Sì esattamente, mi riprendo tutti i giorni, logicamente. Quindi è importante la cura della tecnica, è importante? Sì, no, certamente, non è che spingo e basta via, andare, andare, però mi corregge logicamente la tecnica, come ho visto mia, è personalizzata su di me e mi trovo bene facendola in questo modo. Ok, 225, dovrebbe essere di 85% più o meno, sempre singola. Dov'avete messo il mio cavalletto? Ok, Matteo, sparali sul soffitto, io ho già cominciato ad allentare troppo. Questo è il mio 93%. Poi dicono che io svantaggio i miei ospiti, faccio lo spaccone. No, no. Non è vero. Sono quelli che mi stanno sul cazzo. No, qua ti chiederei stare in zona. Sì, perché è comunque il mio 93%. Ok. So che prima li ho sparati, però sai. Vediamo, vediamo. Si sa mai. Aspetta che ti prendo come Noah. No. 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 Perché la scusa del giorno, sai, non sono un powerlifter e quindi fanno uno squat a cazzo di cane. Tu sei uno streetlifter e potresti farlo, in teoria. Posso partire? Si. Guarda avanti. Vai, vai, vai. Fermoli. Bravo. Bella. Un razzo. Un razzo. Ho provato ad andare più veloce. Così. State un po' pesantine. Ok. Facciamo un altro salto di 10 kg. Prima andiamo a borderline, dai. No, io mi fermo. No, no. Due spot laterali ce la fai, dai. No, per non bruciarmi gli altri allenamenti della settimana. La singola 2,35 senza dog-off la puoi fare, dai. Vai, che c'è l'incitamento. D'accordo, d'accordo. C'è il testo booster qua davanti. Ti prendi un po' il testo booster? Il testo booster. Il testo booster. Sono le ragazze. C'è anche il polacco. Va istruito il ragazzo, va istruito. 235 kg ed è più o meno il tuo 95%. Eh, sì. Sì, più o meno. Per me sarà poco meno di quello, perché anche io non sono fresco oggi. Magari mettiamo due spot laterali per sicurezza. Ok, Matteo. Per fare un po' più leggero per te, eh? No, non so se succede abbastanza. Così non riesco. No, come no? Lo fanno così di solito. Eh, no, così mi sento... Ma non ti tocco, non ti aiuto, eh? Eh, no, mi sento un po' disagio così. Ah, ok, scusa. Le comandi, eh? Sto io dietro. Spingi, 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 spingi! Spingi! Fermaci! Appoggia. Spingi! Bravo! Boom! Bravo! No, non mi è sembrato che me l'avessero aiutato. No, no, io stavo lì per troncargli le mani se ti mettevano addosso. No, no. Così si fa lo squat, senza spotter, giusto due laterali che sono lì solo in caso casca a terra. Lui non ha la scusa che non è un powerlifter, lui è uno streetlifter che vi serva da lezione per la prossima volta. Allora, adesso iniziamo con la panca piana. Matteo ha detto che non la fa, puntualmente, quindi non avrà un'estituzione come lo squat. Penso più sport, poi magari mi sorprenderà. Faccio poco e stretta, soprattutto, come... Mobilità come sei messo? Non male, ma neanche bene, cioè una via di mezzo. Non è che su un piatto come un'asso di legno, però un minimo riesco. Batti sullo schermo. Più, quindi qua o qua? Sì, più verso lo schermo. Quindi lo metti un po' più sotto. Ok. Ci sarebbe da migliorare un po' la depressione. Faccio proprio... Ok. Incastrato. Alle toccare fai di loro. E piggi così non toccano. Piggi verso di me con i tuoi piedi. Ok. Cerca di avere il trapezio più riazzato e concentrati qui quando sganci il cane. Sì, quando lo sento. Colsi un po' più piegati riesci a dare più spinta. Tu l'ho appena appoggiato. Ok. Tu vuoi tenere i piedi più vicini, più compatti. Riesci a fare un leg drive più potente. Eh sì, così lo senti. Eh, tieniti così i piedi. Prendi aria mentre scendi o prima se vuoi e blocchi la pancia quando arrivi al petto. Ok. Quello che ho collegato a Matteo è di tenere i piedi più vicini alla panca. Le gambe strette tipo morsa in modo che hai un blocco unico compatto che spinge il culo appena appoggiato. Quindi adduzione e la depressione la faccio in questo modo. Cerco di portare il petto al mento. Il rianciere mi fa ombra sullo sterno. Quindi posso sganciarlo senza perdere l'assetto scapolare. Potete poi farlo sganciando il culo così le spalle ce le hai bloccate. Per il punto lo riappoggi. Vedi? Questa differenza. Mi riesco a abbassarlo ancora? Sfiorate e ripartite. C'è tese. Cerca di rilassare il trapecio. Porto avanti. Scarico sul dorso. Devo sentire il rilasso qui. E lo sento sul dorso. Così. Sì. Qui. Vai. Su. Un po' più alto. Un po' più fuori. Su. Ma. Non andare verso la faccia. Stattimenti perdite scapolare. Non fare questo. Si devo andare verticalmente. Semplicemente estendere il braccio. Ok. Senza riportarlo qui sopra. Quanto pensi di avere di massima di panca? Così a livello teorico. Col fermo da gara penso di non superarmi 130. 15 anni di 5 già siamo al limite? No. Può essere. Se adesso vediamo. Non te lo so proprio dire. Però con le braccia che hai dovresti fare 150. Cioè Master Wallace dice sempre che chi ha il bracione è relazionato al massima di panca. E' meglio che faccio schifo tecnicamente. E' meglio che faccio schifo tecnicamente. E' meglio questo è il problema. Se fossi più capace di spingere questa verticalmente. Se tu mettessi 4 panca a settimana esploderesti secondo me. Eh beh sì certo se le facessi sicuramente. Miteri quanto c'hai? Eh faccio a fine allenamento un 4 per 10 con 60 kg. No quanto c'hai il massimale? Eh non lo faccio il massimale. Faccio un 4 per 10 a 60 kg. Dopo aver fatto dip e dopo aver fatto panca stretta. Via! Presto! Non è che hai molto di più voglia. C'è 135. Sto dicendo al coach che sto facendo SBD Day. Ok. Sono curioso. Facciamo solo singole oggi. Bulgari is the way. Faccio anch'io singola. Sì una singola a quei comandi. Allora 135 kg per Matteo. Hai mai fatti? No. Mai! Prima volta! No li ho fatti ma con bilanciere e dischi scrausi. Quindi non con una panca seria. No. Quindi non so esattamente. E con lo sport per soprattutto. Boom. Scaricali avanti. Ok. Via! Presto! Bravo! Mi piace perché i soliti calistenici hanno una tendenza a tirarsela addosso, sprofondare. Nonostante che non faccia panca riesci ad avere quella sensibilità per foggiare direttamente. C'è molta forza di controllo. Bravo! Mi piace. Ok. Via! Presto! Ehi! Fermo! Prec! Mi pare che hai staccato il culo. Ho contratto la chiappa. Ok, direi che c'è una massima del giorno. 145 kg ci stanno. Ho contratto le chiappe, non le ho staccate. No, mi fido, mi fido. Chiudiamo la giornata di panca con 160 miei. Mi staccherà direttamente Matteo. Io l'ho istruito a dovere. Speriamo che me lo stacchi con quella delicatezza che mi serve. Devono essere manine di fate. Deve sembrarmi aria in mano. Bravo! Lascia piano piano. Prendi. Va bene. Allora, fermo da 3 secondi. Conto io. Vai! 1, 2, 3. Guarda il bilanciere sempre, non il soffitto. Isocinetica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Triplo fermo. 1, 2, 3. Ottimo. Bravo! Test superato. Matteo ha deciso di non prendere il 30 mm Power Gear, ma di provare la Deadly Spar che, se ricordate, in un mio vecchio video con Meloncelli avevamo provato, lui aveva provato 340 kg. È una barra di 27 mm, quindi flette maggiormente e quindi aumenta l'elevazione. Però va trazionata forte per saperla sfruttare. Quindi adesso iniziamo con questo peso. Allora, uncinato. No, fai più ripetizioni. Tieni i punti un po' più aperti. Apri più le ginocchia. Tieni le palle sul bilanciere. Braccia lunghe. Va bene. 170. La tiri un po', la fai flettere. Poi da lì dai gas. Sai cosa? Se sei troppo veloce parti con la barra che ancora non flette. Provo a farlo regular come ho sempre fatto. Puoi fare regular? Provo a farlo. Io sì, provo a farlo. Vedo, regular lo sumo. Lo scopriamo oggi. Va bene. Sicuramente regular non faccio i carichi che fa lui. Da come tira sui 200 kg. Mi sento molto più naturale. È proprio come fosse il movimento mio. Massimo regola in vita tua? 2,90. 2,90 regola? È il video che hai visto quello là. Fatto con le faccette perché avevo le mani scardinate dalle trazioni. A parte con questo bilanciere penso che... No, questo attacca bene. Mi piace. Si fa 300 con questo oggi? Lo scopriamo oggi. Devo tenere... Andiamo a 2,40. Oggi non sono fresco perché ieri ho fatto una quadrupla con 265 e quindi sto ancora rincriccato. Sono sicuro che mi polverizza di regola oggi, a prescindere se faccio su o meno. Su. Fa pure la negativa. Mia faccio. È aria, è aria. Finito. Fotto. Vetti la mia. Proviamo. Ho fatto. Primo deadlift con la SBD. Prima volta sul mio canale che perdo contro un calisterio. Ah no, streetlifter. Streetlifter. Allora, segna la gamba. Giù. Noccioline. Vetti a 300 adesso. 300 kg. Con la mano però devo mettere la faccettina adesso. Dai, fai 300 senza faccette. Cazzo, mi si aperte tutta. Dai, dai, Lucide. Va qua, non riesco. Cosa vuoi? Senza faccetta non riesco. Cioè no, mi si è proprio scardinato anche il callo. Eh, scusa, non è che ti puoi per favore spostare che devo staccare 300 kg io? Qua non è che stiamo dormendo eh, dobbiamo fare le robe serie. Scusa eh. Eh, no. Ok. Vediamo se li alzi intanto. Non sai quanti fanfaroni ho visto. Dico io suolzo più di te, faccio più di te e li stacco. Vediamo se alzi 300 kg. Già prima ne ho fatti più di te. Ero stanco. Voglio che sia valida. Guardi la gamba. No. Non infilare. Giù. Non erano infilati. Borderline. Borderline ma non erano infilati. Vogliamo riprovare? Vogliamo fare 3-10? No. Come no? Questi sono stati facili. Dai, 3-10 dai. Lui vuole proprio vedermi fallire, capito? Ti perdono per i 3-10. Sono costretto a caricare un calistenico, un peso maggiore del mio. Non pensavo che questo brutto giorno sarebbe mai arrivato. Vuole proprio vedere che la sbarrano si stacca da terra, capito? Deve proprio... No, è bello perché sono un calistenico che si è già allenato stamattina, che non allena uno stacco. Ha praticamente fatto una mezza gara di powerlifting. Scusa, non è che ti puoi spostare che devo scaldarmi per cortesia? Eh, grazie eh. No, non si stacca. Basta, basta, basta. Non si stacca. Oggi è stata una giornata molto divertente con Matteo. Ha fatto 235 di squat, 145 di panca per la prima volta. E, come avete visto, ha fatto 300 borderline, perché sembrava che se lo volessi appoggiare sulle cosce. Però aveva le fascette, quindi ti la diamo buona. Io ovviamente non sono riuscito a fare manco 280, quindi umiliato su tutta la linea, almeno sullo stacco. Tecnicamente devo dire che ha un ottimo squat. Panca, non avendola mai fatta, fa un buon fermo qualitativo. Si deve lavorare un po' sull'assetto scapolare. E lo stacco è un mostro regular. Come lo assumo, non c'è stato tempo di vederlo, ma regular è veramente forte. Grazie. A presto. Vieni tu Matteo, com'è stata l'esperienza? Io mi sono divertito molto. Avevo già intenzione di fare, sicuramente in autunno, qualche gara di powerlifting e questa, diciamo, giornata mi ha dato la conferma che la farò sicuramente, perché mi sono divertito. Sullo squat, beh, sapevo già come sarebbe andata circa perché lo faccio. Mi ha sorpreso molto di più la panca che con proprio due accortezze tecniche che mi hai dato mi sono sentito molto più saldo, solido alla panca e anche esplosivo nello spingere bilanciere. Mentre sullo stacco più o meno già conoscevo il potenziale, mi sono divertito a fare il circo con 300 kg e basta. Soddisfatto comunque. Iscrivetevi al mio canale e ovviamente al canale di Matteo Marzola, Listan. Lasciate un like, scrivete un commento cosa ne pensate di questa sfida. Posso? Puoi? No, perché dalla piega della tuta sembrava che... Cioè, c'è le cosce di un pulebro. È vero, eh, non è finto questo. L'ho fatto solo per la scienza, eh, non sono... Certo, ci mancherebbe altri, ci mancherebbe. Questo è per pochi. Un saluto e alla prossima. Ok! Ok! Grazie a tutti.